Come ti è sembrata oggi, come è la tua condizione e come sta andando il tuo ambientamento a San Colombano? L'ambientamento, c'è voluto poco da ambientarsi in questo gruppo perché comunque con giocatori come l'opera in Lombardino sono tanti anni che giocano e hanno aiutato a inserirmi in questo gruppo. La partita di oggi faceva caldo, gli avversari anche se non erano gli stessi, le squadre che abbiamo incontrato prima comunque ci hanno messo in difficoltà, però è meglio, pian pianino stiamo trovando la condizione e piano piano, adesso proseguiamo gli allenamenti, cerchiamo sempre di migliorarci, di trovare la condizione di trovare la magma giusta per poi affrontare bene la competità del campionato. Quindi sta lavorando, ma sta lavorando bene. Sì, sì, lavorare, adesso abbiamo messo tanta cacina in cascina, poi ci manca ancora un po' di brillantezza, un po' di agilità nel movimento, un po' di velocità nel circolo della palla, quella viene piano piano. Non dobbiamo avere fretta di fare dei processi adesso, da quanto la presto. Ok, quindi salutiamo Andrea Colombo e lo risentiremo nelle prossime uscite della San Colombano. Grazie. Grazie.